Abbiamo presentato oggi un progetto che senza timore oserei dire che è un progetto di sicuro valore culturale e didattico insieme, oltre che, lasciatemelo dire, anche democratico, perché si tratta della promozione di un ecomuseo sul territorio novarese. Gli ecomusei sono musei un po' particolari, nei quali è il territorio che presenta se stesso, attraverso quello che ha da offrire, la natura, il paesaggio, la storia, l'arte, i monumenti. È molto significativo, a mio avviso, che nel territorio novarese questo museo, incentrato sul corso della roggia mora, quindi di una presenza storicamente molto importante, sia promosso da una scuola. È il segno che la scuola non vive soltanto all'interno delle proprie attività didattiche, dei propri programmi, delle proprie materie più o meno rigide, ma si apre al territorio e invita il territorio a riscoprirsi e a valorizzarsi. I pannelli che sono esposti in questa mostra presso il liceo classico sono stati realizzati interamente dagli alunni di una classe del liceo linguistico e per ora sono esposti qui. Poi verranno esposti anche nei comuni che rientrano nel territorio del locomuseo, cioè Caltignaga, Briona, Fara, Sizzano, eccetera, fino a Prato-Sesia, con un calendario che concorderemo con le amministrazioni locali. E una cosa importante e significativa è che alcuni di questi pannelli sono stati realizzati anche su supporto metallico e verranno collocati sul territorio di Caltignaga e Briona proprio nelle prossime settimane. Tutto questo è stato possibile, possiamo dirlo, anche grazie al sostegno che ci è venuto dalla Fondazione Comunità Novarese e dall'Agenzia Turistica Locale per la Provincia di Novara.